A Radio Radicale per la sua attività ultra quarantennale e il suo impegno per raccontare il nostro Paese e portare l'informazione e l'istituzione nelle case degli italiani. Con questa motivazione il Premio Nazionale Prato la sposa la causa di Radio Radicale che rischia la chiusura dopo l'annuncio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vito Crimi, circa la convenzione con la storica emittente che probabilmente non sarà rinnovata. La sera della consegna ufficiale del premio sarà presente anche il direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio. Questa idea di dare un riconoscimento a Radio Radicale nasce anche dal fatto, a parte insomma il dibattito che si è aperto adesso a livello nazionale sulla sopravvivenza di questa importante radio che in questi 40 anni è riuscita a assicurare l'informazione istituzionale. Alla sua attiva edizione il Premio Nazionale Prato la conferma di essere appuntamento di elevata qualità in discusso prestigio. Il prossimo 22 maggio a ricevere il premio ci sarà tra gli altri giornalista e scrittore Marcello Sorgi, mentre l'edizione estiva punterà su un programma più snello e coinvolgerà il resto del territorio peligno. Oltre a Sorgi, editorialista della Stampa di Torino, già direttore del Tg1 e del GR Rai, a ricevere il riconoscimento saranno un'attrice Giulia Di Quilio, tra i suoi film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, il regista Claudio Discanno, il neurochirurgo Gaetano Liberti, il musicista Francesco Mammola, il soprano Chiara Tarquini. Quest'anno la cerimonia del premio si svolgerà nei locali del Mercato Centrale di Prato, la ristorante d'avanguardia di recentissima costruzione. Interverranno Carlo Verna, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Nicola Marini, dell'esecutivo nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Abruzzo, autorità e rappresentanti delle istituzioni. Già dal primo anno abbiamo puntato sulla valorizzazione del territorio, non solo Peligno ma dell'intero Abruzzo, attraverso la presenza a Pratola, a Peligna, ma non solo, di personaggi che nei loro campi di intervento, i loro ambiti lavorativi rappresentano delle eccellenze e quindi sin dalla prima edizione del 2012 abbiamo avuto personaggi importanti nel premio Prato. Il premio, sebbene di giovane età, si conferma tra le manifestazioni più importanti in Abruzzo con ospiti e significative personalità del panorama italiano. L'iniziativa è organizzata dai giornalisti Ennio e Pierpaolo Bellucci e dall'associazione Futile Utile, di cui Bellucci figlio è presidente.